bello a tutti ragazzi e ben tornati con il quarto episodio di questa rubrica la storia delle basi del subuto oggi andiamo con le basi replica ovvero la migliore e più fedele riproduzione delle hv come ben sapete il subuto è tornato di moda questi anni quindi non è che è tornato di moda utilizzando l'hv che ancora si possono utilizzare però cosa è successo ci sono evolute e hanno formato le basi replica sono delle basi smontabili e si possono aprire all'interno e e quindi qua anche quando vedranno non si romperanno perché sono fatti in plastica e non in ceramica allora partiamo dalle zeguo le zeguo sono una fedele riproduzione degli hv hanno un ottimo spin le basi sono molto diciamo basculanti come si in linguaggio del subuto sono molto basculanti però non meno un pochettino più alto poi vediamo la migliore riproduzione per quanto riguarda gli hv le top spin queste sono le basi più usate hanno uno spin fantastico si può parlare anche gli accosti sono proprio la miglior fedele se non quasi uguali alle hv poi sono stati prodotti due tipi le acm e le replay che sono simili alle hv dux ovvero le replay vediamo qua sono un po' le acm sono meno usate infatti sono molto molto piatte però comunque si può lo spin non è assicurato né con la cm con la cm non tanto lo spin invece con le replay neanche però se sei bravo lo riesci pure a fare quindi sono più basculanti sono più piatte le acm rispetto alle replay ha un ottimo accosto comunque questo va tutto un ottimo tiro queste sono le basi replica sono la miglior fedele della riproduzione delle hv in questi anni se il video vi è piaciuto pollicione in su commentate poi ci vediamo nel prossimo e nonché ultimo episodio di questa sera ciao a tutti ciao